Nel momento in cui le nostre immagini testimoniano l'ennesimo atto vandalico nei confronti della statua dedicata a Vittorio Fossombroni che si trova in piazza San Francesco ad Arezzo, sono passate 24 ore da quando appunto questo atto vandalico è stato purtroppo perpetrato ai danni di questo monumento arettino. Due sono le cose da mettere in evidenza, prima di tutto la mente scellerata di chi ovviamente è autore di questo gesto ma anche se volete la poca attenzione da parte di chi questo bicchiere l'avrebbe dovuto ormai già rimuovere. Dove ne avevo da Roma? Che ne pensate di Arezzo? È una bella cittadina, nonostante il bicchiere, nonostante il bicchiere, i ragazzi, scherzano, sarebbe da togliere loro, è da ieri che stanno qui. Esatto, ecco lei l'ha visto anche ieri? Sì, sì. Il bicchiere posizionato sulla fronte sembrerebbe legato con un elastico e coloro che lo hanno poi posizionato devono anche essersi arrampicati sulla statua. Una brutta immagine di Arezzo sotto gli occhi dei turisti che arrivano in piazza San Francesco per visitare gli affreschi della leggenda della vera croce conservati nella cappella Bacci. Telecamere non ce ne sarebbero e anche questo ennesimo scempio alla cultura aretina è facile pensare che rimarrà impunito. Ecco, bisognerebbe dare perlomeno una pena certa perché se prendi uno, a parte che non so se ci sono delle telecamere, dei cosi da guardare o meno, bisognerebbe che se un minore prendere i genitori e rifondere tutto quello che basta con questi pervenismi perché non portano niente secondo me.